La mia relazione parla di sport, quindi lo sport può essere un'arma nella cura contro il calcro. Da sempre mi sono occupato di prevenzione, ho aperto un sito che ho intitolato Difendiamo il Cuore, perché le evidenze a favore della prevenzione sono molto importanti. Parigi 2016, congresso della Società Europea di Cardiologia, una prevenzione adeguata può ridurre dell'80% le malattie cardiovascolari e del 40% le malattie neoplastiche. Quindi come si fa? Innanzitutto si va a isolare quelli che sono i fattori che influenzano la longevità. E allora vediamo che la longevità è influenzata per il 50% dallo stile di vita, per il 20% dall'eredità genetica, per un altro 20% dalle condizioni ambientali e per il 10% dalle cure mediche. Quindi lo stile di vita è quello che fa la parte del leone. E quali sono i cardini di uno stile di vita adeguato? Innanzitutto l'alimentazione, quindi un'alimentazione che privilegi cereali, semi, frutta, verdura, olio d'oliva, con poco uso di carni rosse e di grassi animali, con un uso moderato di carni bianche, latticini, pesce, uova, vino rosso e dolci e senz'altro protettiva. E un secondo cardine è l'attività fisica, quindi l'esercizio fisico ci aiuta molto. La sinergia tra esercizio fisico, dieta e mantenimento del peso forma ha anche un grosso significato di prevenzione nei confronti delle malattie oncologiche. E quando parliamo di prevenzione di malattie oncologiche possiamo dire che l'attività fisica riduce significativamente il rischio di sviluppare diversi tipi di tumore. E questa è la prevenzione primaria. Poi sempre l'esercizio fisico migliora la sopravvivenza dei pazienti andando a ridurre la tossicità delle terapie, quella tossicità a lungo termine di cui abbiamo parlato prima i colleghi, e riduce le recidive. E qui parliamo di prevenzione di tipo secondario. Poi abbiamo la prevenzione terziaria, cioè l'attività fisica durante le terapie antitumorali riduce la tossicità e quindi migliora l'aderenza alle terapie. E studi recenti sono ottimisti in tal senso. Sembra che migliori anche l'efficacia stessa delle terapie. Questo è il progetto CCM 2014, è un progetto sommenzionato dal Ministero della Salute, che ha sviluppato un modello nuovo di prevenzione delle patologie correlate ai trattamenti antitumorali nei pazienti lungo sopravviventi con linfoma. Questo progetto ha prodotto un manuale, un manuale per l'esercizio fisico adattato ai pazienti con linfoma, ma anche con altri tipi di tumori. Tra l'altro vedremo di renderlo disponibile sul sito AIL, in modo che tutti i pazienti che vogliano potranno avere il PDF di questo manuale. Già i colleghi prima hanno parlato di tossicità delle terapie antitumorali. Innanzitutto si ha una tossicità durante le terapie. Nausea, vomito, stipsi, mucosite, perdita di capelli, citopenia, cioè diminuzione degli elementi corpuscolati del sangue, globuli rossi, globuli bianchi, piastrine. E poi abbiamo invece una tossicità che si manifesta sia durante che dopo le terapie, quindi una tossicità a lungo termine. E qui parliamo di cardiotossicità, di deficit cardiopolmonare, di mancanza di forza e anche mancanza di trofismo delle cellule muscolari, immunodepressione, quindi aumenta la suscettibilità alle infezioni, si ha, come ha detto la collega precedentemente, una depressione, si hanno disfunzioni cognitive, molti pazienti riferiscono una diminuzione della memoria e della concentrazione, la polineuropatia periferica, quindi le parestesie a livello della punta delle dita, delle mani e dei piedi, la sindrome metabolica, quindi un aumento del grasso addominale, la possibilità di ipertensione, la possibilità di dislipidemia. L'osteoporosi, quindi una maggiore fragilità ossea, e la stanchezza cronica, la fatigue di cui parlava la collega precedentemente. E i benefici dell'esercizio fisico quali sono? Innanzitutto migliora il lavoro del cuore, quindi contrasta la cardiotossicità e diminuisce l'incidenza successiva di cardiopatia. Poi previene e controlla la sindrome metabolica, quindi come abbiamo detto prima, ipertensione, dislipidemia, obesità, aumenta l'efficienza psicofisica, mantiene la forza muscolare, quindi il muscolo rimane allenato, contrasta l'insorgenza dell'osteoporosi, regola l'omeostasi endocrino-metabolica e quindi previene malattie, quale ad esempio il diabete. Migliora le difese immunitarie, quindi ci rende meno esposti alle infezioni, migliora l'equilibrio psicofisico e soprattutto aumenta l'autostima, cosa molto importante in pazienti che affrontano lunghe terapie. Previene inoltre le recidive e previene l'insorgenza di secondi tumori. Questi dati sono stati estrapolati da tumori oncoematologici, ma gli studi sono stati eseguiti anche su tumori solidi. Questo studio ad esempio è uno studio effettuato su più di 4.500 donne affette da tumore della mammella e si è visto che un'attività moderata e intensa fatta almeno per tre ore la settimana portava ad un beneficio molto importante, una diminuzione delle recidive del 30-40%, una diminuzione della mortalità del 46%. Di qui l'importanza di incoraggiare le pazienti con neodiagnosi, non solo di tumore della mammella, ma un po' di tutti i tumori, a incominciare e mantenere un esercizio fisico regolare. Parliamo di attività fisica come arma nella lotta contro il cancro e quindi quell'attività fisica di cui vi parlavo almeno tre ore alla settimana è un potentissimo farmaco antitumorale, protegge dalla tossicità delle terapie, migliora la qualità della vita e questo è importante, non ha gli effetti collaterali negativi dei farmaci, è ultimo ma non ultimo, è una risorsa a basso costo. I farmaci, la sinergia, farmaci, attività fisica cura sì il cancro, ma cura anche il paziente con il cancro. Al termine vorrei presentarvi quella che è la mia esperienza, quindi dicembre 2021, diagnosi di linfoma, ho seguito i consigli che vi ho dato in precedenza, quindi ho seguito le indicazioni del manuale di attività fisica, sono salito in bicicletta sui rulli perché in inverno la mia condizione e le condizioni climatiche non permettevano di pedalare all'esterno e ho pedalato da Torino a Roma e ho avuto un'accoglienza eccezionale da parte dell'AIL, di tutti i colleghi e di tanti altri pazienti e così via. E questo mi incoraggia a continuare, per cui l'anno successivo ho allungato la pedalata e ho fatto Torino-Bari. Vedremo poi di unire un po' tutti i centri oncoematologici italiani. Grazie.